a bolla a bolla chi ha organizzato tutta questa cosa? tutto questo casino chi ha organizzato? due parole Terry due parole e poi? ma grazie a tutti per la loro presenza aspetta aspetta ti voglio bene ti voglio bene e basta e basta e basta niente più e che già vado un libro e che sempre che sempre allora tutti guardi la canzoncina tutti a te tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te e uno dopo di amici auguri ragazzi cantate la canzoncina vai la canzoncina vai la canzoncina vai la canzoncina dopo 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 la sta prendo la bottiglia ragazzi ragazzi gli auguri non li ho sentiti gli auguri vai cinque quattro tre due uno vai 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 ecchia ecchia un po' moscio però ce l'ha fatta è che hanno valgine insieme a te che aspettate un po' mosco portico c'è un po' mosco